ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video di princess castle io sono erica e tanto per cambiare siamo al mobile world congress questa volta mi sono fermata al padiglione 8 dove c'è rico che cos'è rico praticamente hanno sviluppato una videocamera in 360 che permette di fare direttamente lo streaming su youtube al momento funziona solo tramite pc praticamente avete la fotocamera davanti la fotocamera dietro quindi fa due immagini a 180 gradi che vengono unite insieme già all'interno della macchina qui potete invece collegarla al pc avete due ingressi di cui uno hdmi e uno invece un usb normale e poi c'è il connettore che se non sbaglio questo qua per la ricarica mi hanno detto sotto c'è il classico attacco quindi lo potete attaccare a qualsiasi altro cavalletto e non avete particolari problemi nel tenerla in piedi insomma ho chiesto se in futuro verrà resa compatibile con gli smartphone mi hanno detto che non lo sanno ancora stanno ancora lavorando sulla tecnologia probabilmente lo streaming sarà anche su facebook nelle prossime settimane nei prossimi mesi per ora compatibile come vi dicevo soltanto su youtube ho chiesto se si può editare con la loro piattaforma il video mi hanno detto che per ora non è possibile quindi l'unica cosa che potete fare è registrarlo e poi editarlo usando i vostri programmi viene registrato in mv4 il formato è una specie di full hd quindi 1920 x 960 pixel come vedete il formato è veramente super compatto e piccolissimo e grande più piccolo della mia mano praticamente per adesso si stanno focalizzando quindi sulla portabilità e sulla compattezza del prodotto che è piccolino però vi assicuro che per avere queste dimensioni abbastanza presente perché è pregno di tecnologia adesso andiamo così a importunarli un po vedere delle delle altre cose a vedere le registrazioni come stanno uscendo voi mi raccomando continuate a seguirci usciranno altri video di questo mobile world congress che finalmente è giunto all'ultimo giorno perché io non ce la faccio voglio andare a casa quindi a presto ciao